ulcere e dove domenica 30 è stato sottoposto a una seconda operazione per un nuovo sanguinamento un po meglio così così ha detto ai giornalisti accampati di fronte alla struttura che le chiedono come è il rapper un ottimismo anche lei menzionato da lei anche lei padre franco lucia che esce poco dopo dobbiamo essere forti per lui le parole della famiglia all'ospedale la famiglia lucia ha scelto evitare i bollettini medici affidando le notizie sulle condizioni salute fedez solo alle parole mamma papà e moglie chiara ferragni dal tornare rapidamente da parigi per essere accanto a suo marito lo stesso influencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione solo fedez aveva detto ai social media erano ricoverati in ospedale a causa di due ulcere mi hanno causato un'emorragia interna chiarificando una storia su instagram ciò stava realmente accadendo dopo le voci delle prime ore ringraziando il personale medico ha letteralmente la vita mesave fonte fotografica ansa fedez e sua moglie chiara ferragni la controversia sul veto rai nel frattempo al di fuori dell'ospedale il caso dell'intervista dell'intervista con fedez nel programma rai due belve mantiene la panchina i leader viale mazzini avevano messo il veto sulla partecipazione del rapper alla trasmissione francesca fagnani indipendentemente dalle sue condizioni salute scatenando le controversie sui social media e sulla reazione dello stesso presentatore che ha affermato non aver condiviso la scelta nel tentativo chiarire la storia è intervenuto il ceo di rai roberto sergio che in un'intervista con il corriere della sera ha negato le possibili ragioni economiche alla base della decisione negare l'intervista con fedez le parole della dry auguro anche a fedez una guarigione rapida e definitiva e mi dispiace profondamente che la decisione editoriale presa da rai più di dieci giorni fa sia esplosa in modo strumentale durante il suo ricovero in ospedale ha affermato il ceo di public tv il problema chiarificato sergio non si riferisce alla libera presenza più tempi per trovarsi in una relazione diversa clima e clima tererene